Ciao a tutti, come potete vedere da ciò che c'è intorno a me, siamo ancora una volta tornati all'autodromo dell'Evante di Binetto perché oggi è domenica e ci sono sempre un sacco di auto e moto interessanti questa volta, se vi ricordate il nostro ultimo video qui, non ci sarà Sam da Sintruglass ci siamo noi e ci sono molte auto presenti l'ultima volta, andiamo un po' a dare un'occhiata Soprattutto ci sono i G3, 991.2, non ce n'è una sola ma ce ne sono ben tre in rosso, poi c'è in arancio e come l'ultima volta, non è un rosa, ricordatevene questo non ha un Rubystone Red, 991.2, l'ultima generazione di G3 esistente poi ci sono solo G3 però perché c'è una GTS, quella in cui ho fatto da passeggero l'ultima volta che siamo stati qui qui è una Boxster 981 più Alfa e lì in nero, non so se si vede, c'è una meravigliosa M3 Cabrio a proposito di M3, come Enzo mi ha appena fatto notare, ha scarichi in titanio, è un blu veramente meraviglioso spero riusciate a sentirmi perché oggi c'è un macello pazzesco, ci sono moto ovunque siamo stati superati venendo da una Ducati 1299 Panigale, c'è un po' di vento ma quello è veramente il problema minimo perché come potete vedere è veramente pieno di moto, però ciò che sta attirando la mia attenzione e vi giuro non posso fare a meno di fissarla, ogni volta che mi ci trovo al cospetto è la GT3 la Ruby Stone Red, è pazzesca veramente ok adesso si stanno preparando con la GT3 e con la 911 Carrera GTS per girare in pista abbiamo chiesto di montare un po' di action camera nei vari abitacoli per mostrarvi quelle che saranno le performance delle due meravigliose Porsche qui all'autotromo delle Valti di Pinetto e 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